In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Simone Coccia con l'aiuta racconta come è avvenuto il ritorno di fiamma tra lui e la sua ex compagna, l'ex senatrice Stefania Pezzopane, dopo quella che sarebbe dovuta essere la fine della loro relazione, sebbene non siano mai mancati momenti di riavvicinamento tra i due. L'ex spogliarellista si mostra felice nelle foto pubblicate sul noto settimanale che lo ritraggono insieme alla sua compagna, di nuovo uniti come i primi tempi, nonostante un periodo piuttosto altalenante, come lui stesso racconta. Quando io e Stefania ci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta, avevo messo in conto che poteva essere finita per sempre, ma sapevo che mandare all'aria nove anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato. Tornare insieme è stato inevitabile, soprattutto perché i motivi che ci hanno portato a prenderci una pausa erano meno importanti del nostro sentimento. Sono stati lontani per un lasso di tempo che sarebbe dovuto servire ad entrambi per comprendere come il loro rapporto potesse trarre giovamento da questo distacco, continuando a coltivare le proprie passioni e i propri progetti personali. Poi qualcosa è cambiato, avevamo bisogno di provare a staccare anche per capire se esisteva la possibilità di poter recuperare energie. Siamo stati lontani per sei mesi, in cui ci siamo visti ma molto poco, ci siamo sentiti in maniera molto spontanea e questo ha fatto sì che poi siamo arrivati a un punto in cui l'istinto ha deciso per noi. Il sentimento è stato più forte della ragione.